Ciao, benvenuta o benvenuto in MyAR Studio. Io sono Luca e ti aiuterò ad ottenere il massimo da questa applicazione. MyAR Studio ti permette di convertire i tuoi modelli 3D e renderli fruibili su web, sia per desktop che per smartphone, e in realtà aumentata sfruttando le moderne tecnologie di Apple, iOS e Android senza bisogno di app. Noi ci occupiamo di tutte le problematiche tecniche legate alla compatibilità dei formati, alle peculiarità dei dispositivi e ti offriamo una struttura cloud costruita appositamente per la distribuzione di contenuti 3D in modo che tu possa concentrarti sul tuo prodotto e sul tuo core business. Il nostro obiettivo è che tu possa sfruttare queste tecnologie legate al 3D e alla realtà aumentata per mostrare al meglio il tuo prodotto, migliorare la relazione col tuo cliente e aumentare le vendite. Prima di cominciare ti ricordo che potrai attivare la guida contestuale cliccando sull'icona a forma di cappello nel pannello di sinistra. Cliccando sul libro invece accederai alla documentazione dove troverai informazioni approfondite su tutti gli argomenti di MyAR Studio. Se per caso non trovi qualcosa o sei bloccato, contattaci via chat, via email o apri un ticket cliccando sull'icona del bug cioè quella a forma di insetto. Ma ora cominciamo! Questo in cui ti trovi è la pagina dei progetti. Qui troverai elencati tutti i prodotti che caricherai sulla piattaforma. Attualmente è vuota quindi clicca sul pulsante più in alto e aggiungi il tuo primo prodotto. Grazie! 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 Grazie!